Senti, che tipo di vocalisteri? Sulle mani su, battete le cazzo le mani al tempo Questa forse è una delle cose che mi sta imbarazzando a dire ma io avevo, nelle note del telefono, delle frasi standard perché poi me le dimenticavo perché non interessandomi che prima di andare sulla console leggevo allora sulle mani, sulle mani, sulle mani poi dove sono le mani poi fate vedere le mani oppure chi sono gli amici di e poi elenco di paesi vicini Sì Sempre, quella roba funziona se tu sei a Milano, gli amici di Lodi gli amici di Casa del Pusterlengo tutto funziona Sembra quando la polizia fa irruzione dice le stesse frasi c'è un poliziotto fuori dalla porta con la pistola fa sulle mani, sulle mani, sulle mani fatemi vedere le mani dove sono le mani chi sono i vostri amici dei paesi vicini hanno lo stesso foglietto vai, sono pronto grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti